Siamo a quota a 950 metri, possono essere pochi ma possono essere anche tanti. Siamo su un'isola, è la prima isola che sono atterrato all'età di 17 anni. Sì, un'età molto giovane, ma in me avevo già quella voglia di ricercare, di scoprire, di esplorare mondi nuovi e di conoscere al meglio quello che c'era intorno al mondo. Avevo pochi risparmi, stavo lavorando da molto tempo e questi risparmi che avevo a disposizione ho pensato di utilizzarli per fare questa vacanza di una settimana. E da lì sono partito e ho deciso di realizzare un mio piccolo sogno, di venire qui alle Canarie. Oggi voglio condividere con te un momento speciale, unico, veramente, perché siamo in anticipo. Qui è gennaio e sono qui apposta per esplorare il territorio e per capire quali sono le zone di miglior accesso per poter realizzare il corso che faremo la prima settimana di gennaio 2019. Quindi se sarai tra i fortunati, perché ci saranno solamente 20 persone tra di noi, che riusciranno a fare questo viaggio, un viaggio veramente importante. È un viaggio che ti guiderà verso un'esplorazione unica dentro il tuo mondo, ma per andare anche in un mondo esterno, in uno scenario incredibile. Perché qui andremo a vivere momenti speciali che toccheremo montagne, colline, mare, spiaggia e dune. Quindi sono contentissimo di vivere con te questo momento. Se hai voglia e il desiderio di chiedere informazioni, qui in questa pagina, qui sotto, puoi trovare un link che ti sposterà direttamente sul mio sito. Oppure se sei già sul mio sito, qua sotto c'è la casellina, dove puoi trovare le informazioni che ricerchi mandandomi semplicemente una mail. Ti aspetto e sono sicuro che prenotando in grande anticipo riusciremo a avere tantissimi vantaggi. Ok? Ciao!